Fa piacere, perché comunque è una vittoria meritata per quello che abbiamo prodotto durante la partita. È una partita difficile, sono molto contento per come i ragazzi l'hanno interpretata, siamo distattati dal punto di vista dell'intensità. E' importante dare seguito alla buona prestazione contro lo Spezia, siamo contenti, andiamo a passare un periodo di riposo. Cerchiamo di prepararci al meglio per il lavoro che ci aspetta quando rientriamo dalle vacanze. Come aveva previsto ieri, abbiamo avuto un canone secondo tempo, sempre quella situazione. Purtroppo un secondo tempo, forse per una decina di minuti, poi abbiamo ripreso un po' a giocare. Dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare. Adesso abbiamo la possibilità di lavorare dal punto di vista fisico. C'è qualche giocatore un po' dietro in condizione, che però comunque sta dando il massimo. Questa è una cosa positiva. Visto un netto cambiamento da parte di tutti, anche i ragazzi che non hanno giocato, hanno dimostrato davvero un grande spirito di squadra. Questo è molto importante. Grazie. 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 Grazie.